Dal 1983 Buongiorno, sono le 8, 6 minuti e 33 secondi Radio Più compie 40 anni, l'emittente a Gordina, capitanata dal vulcanico Mirko Mezzacasa si è guadagnata lo status di caposaldo dell'informazione del territorio attraverso una programmazione continua fatta di notizie, comunicazioni di servizio e intrattenimento siamo andati a Taibon per visitare gli studi e raccogliere le emozioni di Mirko in merito a questo importante traguardo Sono 40 anni, il 25 giugno dell'83 si aprivano le trasmissioni con il rondò veneziano che ci faceva da colonna sonora e l'immel di Francesco De Gregori, siamo partiti lì, 25 giugno 83 siamo stati un po' nomadi tra il vecchio municipio di Taibon e una cantina in via Col di Lana I tempi cambiano, la radio si evolve, il segreto della longevità dell'emittente nelle parole del direttore L'attaccamento al territorio, la voglia di radicalizzarsi sul territorio e non deludere i dieci soci fondatori che volevano una radio per il territorio, sempre stato lo spettro la delusione, mai mai deluderli da Renzo Gavazza a tutti gli altri, guai deluderli Da parte di Mirko anche il ricordo dei giorni trafelati di Vaia, un evento che ha fatto capire una volta di più la fondamentale importanza dei mezzi di informazione che forniscono aggiornamenti e notizie in tempo reale a beneficio della popolazione Andavamo in cerca delle wireless, andavamo in cerca di dove era possibile collegarci poi siamo stati fortunati perché su 15 postazioni una è rimasta miracolosamente accesa a Cencianighe e quando ci siamo accorti abbiamo messo un po' di potenza in più non si potrebbe fare ma l'abbiamo fatto per qualche ora per qualche ora